Allora, quindi abbiamo un parere del correccio dei sordi comuni che è negativo su tutti i temi. Allora, facciamo un certo punto di ricerca, la parola di ricerca. Allora, in merito a finitare, a finitare, a finire, no? Allora, è questa la seguente comunicazione. La sua mente è destinata per ove repubbliche che devono essere preliminarmente e preliminarmente in ogni caso, l'interimento del punto di ricerca garantisce il limite economico finanziario di tanti per il gioco del 2012. Il correccio dei sordi, il correccio dei sordi, il correccio dei sordi, il correccio dei sordi come aveva un amore di realizzarsi, la cantine della notte, si, di un più di minacete, il cese del cese, si, di vari ascoltamenti del territorio, il cese della forza dei concursi, però il correccio è stato messo nel solo desiderio, perché c'è arrivato un lì, ma è chiaramente un ricordo, non è di impendere un stato, è messo al domicino, No, li vedremo nell'ambito di 500.000 euro. L'utilizzo accattamento di 500.000 euro, perdo di conseguenze, insomma, che sono saldati dopo, e che io ho pardonato, perché non c'è il previso, ma con l'attività di certità, se non con certità, che intupe, non più più. Da questo che verrà utilizzato su un finanziario locale, su un interno pubblico, quindi un'attività di 500.000 euro, perché non a segnare il 7 a posto del 2017, c'è un'attività di 500.000 euro, da tutti i comuni, e i due piatti di 3.000.000 euro, quindi questa è, diciamo, perciò la lotta. Quindi, siamo a tutti, siamo a tutti, siamo a tutti, non mi so, e io lo so, da quando ho letto da quando ho letto, che ti senti parlando, ci sei, mi senti parlando, mi senti parlando, mi senti parlando, mi senti, mi senti parlando, mi senti parlando, mi senti parlando, mi senti parlando. Allora, è chiaro che, come si è venuto in fondo a Overee Dune, Quindi non c'era la necessità di impedire il piano amato di fare le ore pubbliche, ma parlato semplicemente di manutenzione, di qualificazione di trattura, di illuminazione, che è poche. Quindi non c'era la necessità di impedire il piano amico che non sta per fare il suo lavoro, ma si tratta di fare semplicemente la manutenzione. No, no, no. Due. Per quanto riguarda il fondo di valutazione delle unità, io ho decisato che noi passiamo in un fondo già sancato di 2 milioni e 100 mila euro. Non è che noi andiamo a implementare un fondo come la mia gente. In quel fondo già sono presenti 2 milioni e 100 mila euro. Poi lo devo ricordare anche il genere d'età che il prossimo mese, credo, verrà a portare il prossimo mese. La gente è in un fondo di gestione comuni, sì, e in un'altra parte, se si fanno gli eseggi dei finanziamenti, quindi, eventualmente, modificare la manutenzione del minaccio a un momento in un giro. E ci hanno quindi i primi, sicuramente il ministero sancato di un molto di vista, ed è molto limitante. E' un'amministrazione che fa e vince le campagne elettorali, soprattutto se ci sono una in ferimento di riferia, un dito puntualmente a penalizzarle e a colpidarle e il bene merito sociale e il bene merito sociale e si, veramente, al interesse della vita lo intuye il elemento presa lavorare solo i nuovi direzzi personali il genere, i nuovi direzzi personali i grazie per fare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.